Allora ragazzi, buonasera, siamo tutti qui stasera per un'occasione molto particolare. Sarò un concerto, alcuni sono tutti qui sapendo che c'erano un concerto di un po' e di no. Purtroppo ci dobbiamo dare questa brutta notizia. Eternauti, ho conosciuto come dicevo prima di Eternauti una sera, dovevamo andare? Eravamo San Francesco, San Francesco, Dario era impegnato in una session con alcuni musicisti della Bay Area. Sì, c'era Ray, Marzare, Marzare, San Daniela e due pompo di Marigold. E da lì capì che questo gruppo aveva una marcia in più, una marcia in più, una marcia in dietro, attenzione. Faccio un prezzo che se no lo perdiamo. Allora oggi sono stati ospiti importanti della televisione radiofonica, radio italiana, l'unico show che non è in regione, riguardatelo, ascoltatelo. Dov'è? Dov'è? Dove si può ascoltare? Sul computer. Sul computer. Sul computer, sono qui, qui ci sono dei cd ragazzi a corrente numerose, sono le ultime coppie. Fate il numero lentamente. Quanto costa il... 10 euro, ma c'è anche la spilletta, per chi sono i poveri, quindi se siete poveri che vanno a comprare la spilletta, non ci dì. Ma parlo alle cianci, siete pronti? Bene, grazie. Fatta. Allora, signore e signori, accogliamo con un grande applauso sul banco, Simone Marcona, i reternauti. Buon appetito! Siamo pronti ragazzi grazie a tutti per essere arrivati non ho modo da aggiungere perché la presentazione di Giorgione è stata il top iniziamo subito e invece no ma che problema è un problema della diretta aspetta 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 a qualche parte il capitale, il senatore ci andava, anche un po' che va la capitale, il cascato ci andava, anche un po' di capitale, prima della sbagliata, le parole sono con le profesi inutili, ma che ciò che faccio con le profesi inutili, per la gara stagliata, le piccina, per la manca, una cantina, un po' che è rafforzato, si va con la gira, che la clima è inutile per te, è inutile per te, è inutile per te, è inutile per te, è inutile per te. Anche a Maragona capitava passando la stagliata, Anche a Cevera capitava che stiano la stagliata, Anche a Tanto di capitava divertire per la strada, Anche a Tanto del cielo riportava tutti i sogni che facevo, Le parole sono delle fasi inutili, Ogni giorno faccio delle fasi inutili, Nella sesta dimensione, per un'attura in corzione, Anche a Tanto del tuo passato, tutto il diventato, Vino divertente, Vino divertente, Vino divertente, Vino divertente, Vino divertente, Vino divertente. Anche a Maragona capitava, Anche a Cevera capitava, Anche a Danas per meno perfino, Anche a Padre su una libertà. Anche a Tanto di capitava, 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 adesso. a tutti. 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 a tutti.